Da nel programma se i Gimmi Giupli il kongrazzial Prime Meat Chops, Carnaby Wines, The Eco Gallery, Derek Garden Center, Mika Bliss Persians, Renova o All Care Insurance. Grazie a tutti. Illa tajba jajna wasanna al programmi għor bainitna. Illa tajba li lagu kol, Martin, wasanna nistawnajdu kwazi 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 xanal u u kol, xarij għor, marcu, imma izbin dayem Jagdi u Ijri. Jagdi u Ijri. Fadlina nistawnajdu dal l-xart txur. L-xart txur fil li bdayna l-skeda jdida għaddajjim. Martin, il-missin nita'luma differenti mille jikonna istod u kol ma kinnu x ma'na u kol fil programmi ta' għbel u ma l-għal l-għadda u kol fil program ta' għna pero naf li għanddek xie għadda u kol differenti għal li kall tal l-lum. L-lum xaykon naik la frančiza. Frančiz? Chetut Lišta frančiza L-li il laham. Chato Briante. oben, korak. e come si diceva! C'è un'area particolare che non è riposo. Certo! Il nostro corso è un'esplice in una poca. Come se stiamo a fare un'esplice? Il corso è un'esplice, 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 un'esplice. Adesso la pasta è raffa, e poi abbiamo fatto una miscina e risposta. Se iniziano alla patata, vediamo la rotta. Vediamo il coloro di la carottina. È bene. È un'esempio di tappare, e si prepara un po' di sopa, di particolare. Ello che è un po' di sopa. È un po' di rosso. Sì, è vero, è vero. Il Partito Imperium Europa. Norman, come and start with you. Who is Norman Lowell? Well, first of all, thank you, Kevin, for inviting me. I don't have invited. Who is the one who is invited to come to the program? I don't know. I don't know what it's all about. I don't want to ask you a question. Who is Norman Lowell? Well, Norman Lowell basically is artist or author. Those are the two pillars on which I... Oh, 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 Support it. Tough na nex ta' artistu ta' autur. Pero, Meta rajtumbat, ċerti affarieti sviluppa' o' Malta, Kelli bil-fors noħroġ, gara l-istennajt il-fuk min-ošrin sena, Kelli bil-fors noħroġ għal-politikaċ maħraġġħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ che avevo fatto tutto quello che avevo fatto nel paese e nel gianco. Normal. Normal, non avevo fatto molto. Come avevo fatto il passatempo e l'attività? Beh, avevo fatto l'escola molto, il frers, il gzira. Non avevo fatto differenza. L'escola avevo fatto una scuola in the middle of nowhere. Avevo fatto molto active, e un mologico molto molto avvenutato. Non mi piaceva, mi piaccite come? Non mi pensi come me ha superato. Sono sempre sempre un tapplicato, un cmnologo, un po' certo. L'abbiamo solo. Imamo fare delle cose molto, in mente i ho avuto un po' di tempo. U, 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 da' gizmin, però, dijem kelli di, l'Italiani, jajdu la, la volja disapere, di quest, dijem ritnaf, ritnista, si, kont, naqra, libreria, għeju sejjer, il-belt, valetta, l-bibbioteka, mekk, tatfal, zar, kont, għeju sejjer. Minjaf, kamil darba, immur jisib filodu, kif titħol, naqra, zewġkodban, tin nanna, tiħaj, il-belz, teħ, su, narġa, muri, nġib, zewġkodba, uħra. Jussi, et, was... Inti, mil-belz, iġvili? Għana, mil-belz, siħa, il-mama, siħa, zaħan, mammi tiħaj, meta' zewġet, kello, mdar, pek, tujid, la, taħ, xir, il-bib, tal-ġemb, tal, taħġ bishop street. Kuddim il-ġezwiti, meta' zewġet, għdamlu, la, taħħ bħita', marek middar għal-kinesja tal-ġezwiti, għas peti, daħk, mirma, kinx, trafiq, palu, muħu, uħu, daħjmi. Quindi siamo arrivati a l'Alda. E l'Alda mi ha detto che avevano l'Alda. Avevano l'Alda. Avevano l'Alda. Avevano l'Alda. Normalmente avevano l'Alda. L'Arte Marziali. L'Alda. 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 Erola. L'Alda. TPEPOL. Si sono un personale più riche di Malta. L'Alda. instructor face Trinf potente. L'Alda. Erola jace. Erola f Gesù. oppure, l'Alda. Norman, we'll never forget, dawe kill barbecues li konna namlu, dawe kill djema s'hiħaw, dex, rammla l'hamran, nittrenjaw, and quite trying, training programs. Uda, but, gajt madha l'bni da Moniku, Malta, illi kino jajdolum iġnum fil-fifties, e Gabriel Caruana, bl'arti tiaw, moderna, biċeramika tiaw, bni dem trement, he's still with us, I respect him a lot, u ta' ni perspettiva ohra tal-hajja, kompletament diferentem iċes, fej iċes sua razionalita, tispiċa, kon le palle kwadrate, kif jajdu taljani, il-percezzjoni da Gabriel, iċa kompletament diferent, intuitiva, kreativa, artistika, u ta' ra' l'affariet, mim angolo diferenti. Il-lum, l'arti ziva, l'arti klassika figurativa, spiċaħt, il-lum għanna l-kamera, bil-mobajl, tiħu ritrazza l-assufa, if you get what I mean, iċveri man nixħal fejdik il-kwalita ta' arti, il-lum, we paint feelings, not figures, te-sprimi il-feeling, diċk l-importanti fl-arti, ut-ritkum veloċe, la veloċita importanti fl-arti, te-jienek painting, indo miċtarmin two minutes, bix namlu da' zek, I'm back to chess at the Femture at night. L'arte marziali. L'arte marziali ti-preparak to endure, ti-preparak li t-sapporti, marriċna jittawne, k'forzi mux il-kwalita ta' programman, għnafċi johu domanda dna ma' għasħal nixħ, fiħa, ma għara mixix għaddeħti, għajd li kiku ma' kellix dak il-training tal-arti marziali, normal, low-ill. Kem don fil-arti marziali? Kiku għamluni tabak, whole establishment country, għamluni tabak, kienu għamluni kiku, ma' endiurdaċ, kelli, txwan xo, li-arti marziali, a mixture of singi, anti-čičwan, tis-sodak, taftis-saporti, taftala. Kon tukol bank manager. Oh, my God. Yes, bank manager, definition, ticking numbers others have ticked before you. The most monotonous job in Malta, al-America, bank manager is somebody different. għax, il-free enterprise em jara xa għadja tigber, like a baby, a barber, a baker, ul-bank manager, juhu għost, iwe l-lida. Oh, Malta, come on. Oh, Malta. You know what I mean, the banks are... Normal, xkin li bix nibdeju, anki disfusjoni al-program, anki kol Hamru, anki kol fu Antwan, li ddjejdejt li tibda bil Imperium Europa. Well, as I told you, jussi, abdejt naradi, ime tadaħlu l-awel darba, vapur, mim li ppakjat, bil Albanizi. Issa l-Albanizi uma Illyrians, the ancient Illyrians, nisbiħ, tual, bjondi, bsaxħitum, marrufuq il-Muntanya, bix ma jisirux musulmani, s-saportew, m-mack, u zhammejnijum, s-ampaw l-l-Bahar. U jiena, ktib tl-il-Prim Ministru, tadaq izmin, can I mention him, mafijaċi jienu, la, le, għax jiena tantin, edifjene kadam, u għaj kongratxulajtit him, għatlu sewa mil zhammejtuhum, these are ancient Illyrians, ima ma nistawx nintlew biħum, għarġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ� il partiz tal-imperium Europa. Moviment, actually, mux pa'gna mux bit-tessari. Moviment. Moviment. Isa, if I may, please. Dal-moviment tal-imperium Europa jimbdejtu wahdi against everything. Kif hriċt immediatamente il-flak xtajdlu għaw, l-antagonizmu isninx kriminal minn kul naħa. You see, I'm sorry, I'm getting a bit excited, but... Like a plant, Yaasra, like a plant sprouting. Oh, I endured because of Chwansho, because of the martial art, but gradually, very few people came. And today, we have Antoine, this young man here, who was very capable. Aproj yaw na hafna. Zaza hohrayn bish ta'perom ba'at metha'jew bish ya'bzoo, to make the leap, mi xxalien fu ta'bessa'l-ġol-bahar ta'vojdja' il-blat, da'jxa' get back. Axe' għada'k enna, hafna'jridu juħorġu, imma bat il-presser, familia, l-ġob, l-universita, professorita'l-biggilla. Eh, tifem xiniju, bat iwer hruwom. Hamur fu Antoine. Antoine, xkin li ta'k il-kuraċ bish tis-sapportja'l-Norman u għullu minġu innata' għadin għandkom il-muvument tal-imperjum agurropa fil-imkien. L-Norman lo, il-konti, Ilina, fu kif konti tajt introduzzjoni, Abel. Jina n'hopna salla l-konkluzzjoni jit wahdi. Man id-dependix mill-li jitħatiħorju, mill-li jitħi program sabiċħi formula li l-xsip tijej. Allura... Kif norma mentu? Eza, tintajt ma miħaw personalmentu skoprejt li kien biniedem totalmen differenti min kifet penġiħ il-media. Per rejna d-deċidejt li nittħol kompletament un-ameldan il-pass. Għalli x-wasalt għal-konkluzzjoni vera sempliċi. Metaħarist, pa jizi joħrajn Ewropej, Ewropej, il-li jedin jaddu min-dill-istess problema, fiftit snin, kolla spiċaw l-istess. Allura jenu għasalt għal-konkluzzjoni il-li jenutli niprofa nibni futur un-aċċirkutijej, un-iffoka bisfu il-ċirkutijej, metana fil-li inevitabilment 6-snin, 7-snin ohra, it-tfall tijej eventualment, sejrin jaddu min-l-istess esperienza li jaddu min-na l-Europa kolla. Iġifiri, għal-ijja kienet vera konkluzzjoni sempliċi, kifetle? Iħinija l-ledejat tijak li l-u miġurnata, ovvjoment, msett kunu kol anki uħħet mil-kandidati, ristess, ma nur min-nu kol għal-fuq li semta l-Imperjum Ewropa? Iħinija l-Imperjum Ewropa, jem hħafna għaffariet, hħafna min-niss jasbuna iffokati bis fuq li migrazjoni illegali, per esempio, ma jem soluzjoni għal-kull, għal-kull problema illi aħna il-diskutajnija, anka ġilisifirna Londra u Milano il-diskutajnija ima Malta jinti tit-tasalf punt il-litejt xinu ma l-iktar problemi kritiċi għal-pajjis u u ma l-Imigrazjoni illegali ovvjoment għal-iċtaffetwa kul settur jihor pero u kolla ndiħafna l-albi l-ambjent meta tares li il-figuri li per esempio l-Europa kolla għanda bini ratata bini ta 4% u aw Malta għanna ratata bini 26% bit-tmenin nelf bini void man istawx inkomplu sejrinek u mateċ illi Malta għanna sempliċement li ibis għanna tant għant għirt storiku illi iwan pretzabli illi njessi sifru min New Zealand biex jarra u ħawne u min flok etnuzaw it-tezori li għanna etnamlu blokok inkomplu ntellaw l-blokok u għallura ikkħan komplu sejrinek kifetlek diġa edin 26% irratata bini eventualment għat kompeti għber u mu edassir lebda bidlam il-partiti nfatti għada kif ħarġet figura fil-disat afrar dis-sena il-li reġa għuin fetħu 51 applications għal outside of development zones staw xin komplu sejrinek din l-ħħġa tal-la-Armani vizjoni tijak għara imperium Europa fuq il-kristjoni tal-ambient li ovvjament nafli irrid jukunem naqra fissens uqqo li juqod uqq 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 uq uq aħx l-belt jya storja muċ etnejt nwak uqq 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 l-bini jina etnejt nibnu b-mot iktar intelligenti kif et jiblu barra min Malta u s-soluzzjoni tihe riguard l-ambient ija din l-stess intelligenti li knuzaw l-akxar skoper tit ax xienza illi l-um hafna min niss illi eddin da settore azbisja fu bjom u barra minn malta għt iġu implementati kuljjum u b'entuzjazmu e knu zawdaw l'akxar skopert tali xienza o naqduħ flimkin ma l'ambient mandu jikunem lebda konflit tillia għna kem neixu mot mot tranquill u flistessin et nirrispetta l'ambient ta madwarna iġifiri ma jfissix metabni dame t'itkellem favor l'ambient iġifiri rit jieqreti t'xivilt għanzi, nipreservaw kompletament il-wirt kulturali, il-belt jieqa wahda minno aħna konna fos t'lewwa li li omna kontra project piano il-li iddistruġja l'identita tal-belt esat, minn-belt barokka i-sektħal-ġoleġittu dakil dik għta l-identita ta għna dik vera maqbil nixmaha fil-bidu oviamet, il-rispetta l-wirt ma flistessin t'ibni b-mogħt iktar intelijġenti, ju Norman, minn-dejem kond tidem dċċis? għatpa kond kodar teħan ajdu għajek liħxuż per dimdċċis dhaq l-dhaq li jattal liħxuż trittittak il-jom otherwise they fester and they grow għtifem semma l-piano li konna kontrija u uppajna salaxa raħna bis għarra kien kienem kontra piano ftit-ftit għablumijaw ħarkitetti l-kamera tal-arkitetti dobobobo kulħad fitit-fitit bil price ta' l-establishment liħandu l-media u kulħad għa t'għalbu u zanajtissa zanajtaħaw publikament lankun l-Europa jen I will do everything to bring that monster jen ekkjuq E' un tipo di quelli che si fa vedere il suo posto di un sacco di una lezione, ma non si è rileva, ma non si è rileva. Ma in realtà, ovviamente, il gruppo dell'opposizione, il gruppo del governo, il gruppo del gruppo del pari, il gruppo del gruppo dell'opposizione, il gruppo dell'opposizione, e come guarda come ore, come riguarda tutti voi, come guarda come ore, come guarda come ore, come ore, come ore, come ore, come ore. We are the only opposition in Molta, Non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla. Il-poplu once heroes, il-poplu once leaders, il-poplu jobdi meta jinduna il-leader andu l-pajjizu l-ġensu l-albu. Willing li il-poplu jati, ekna rawa, il-popli, il-popli jista jikun dittatur mostru Stalin. Baħu jidġildulu għal-Russja sal-Aħħar, sa-Moskow sal-fawa. Listess il-ġermanisi, baħu sal-Aħħar jidġildu għal-ġermania sa-1940. Paħalix, għaxi l-poplu metta jara leaders decisivi li jhobdu l-pajjizu jgħamlu ssagri fiči neċessari. Missa, xe te il-poplu ta'na. Metluf, metlu trad quot waxdu. Il-poplu jaffieġ, uqdu. Għali īta'seb il poplu malti, e nissar un'għedu li tekkin sidraħ għala poplu li ua mitlu ta' raħ poplu għali ħu jam għal kifkanna l'esperienza li war gibe amsa 20 sena minnaħa tal-gvernationista il poplu deċiida li jivvota gal-person uħra differenti. Ma dis happen silla democracy, għal poplu minnaħ l'eħli se jimbitlu l'affariet u'veru jikkolog prim-ministru lì u ikun genuinamente riti biddell però l'affariet kif edin 5 years, 5 years, 5 years hiex estu tex, think, short term ma istax jajda sanamel, xaġaġa lungo os ba, xaġaġaġaġaġaġaġaġaġaġaġaġaġaġaġaġaġaġica u u, kju riti il-voti il-maġjoranza ti nais大家 ħħġaġaġaġaġaġaġaġeġaġaġaġaġi Essereg l-life71 juga al telo all-socialist la parte di Gverne. Ma come il 71? Non c'è l'istess poplu. Non c'è tutto il poplu che hanno fatto decisioni e il poplu non c'è l'intelligente con l'hmeriet. Non c'è l'istess poplu. Non c'è l'istess poplu. Non c'è l'arraina, 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 che si dice l'arraina che si si trattava l'arraina. Non c'è l'arraina. Non c'è l'amore. Ceลat è il primo il primo ministro è un primo ministro perché c'è un ministro non c'è un ministro quello che si tratta di insieme di Malta che questa pausa ha proposto. Sono storico ovunque? Claro, certo. Ma infine, l'hova tal'democratia. L'hova tal'democratia... è un gioco, un gioco della giocatura. Il politica è specialmente Malta, ma in generale l'Europa di l'Italia è un gioco della giocatura. La giocatura è il gioco della giocatura. Il politica, especially in Malta, tribalistica... Ija loba futbol, aħna, that's all, il bżonietta al-pajis, il veri bżonietta al-pajis, ma jihorġuż metint gandeg dil loba futbol, jista jikun ġenwin, kemmu ġenwin il-Prim Ministro, noj n-ha, s'ha deto il-Piano Union, t-ha i fada n-ha, n-ha, ma jisir xej, ma jisir xej, that's all. The Prime Minister plays a piano when nothing happens, that's more. Għin iħ il-vizzjoni tija fill-Europa? Da' imperium Europah, jena i' il-vizzjoni tija, julli... Enti paħla Norman Lawell? Aja. Jena i' il-vizzjoni tija, jga ta' imperium Europah, Europa ta'l-registrujni, un-Europa... Mja t-referi p' Podeħt teħi riferi paħla Europa ta'l-registrujni? Un'Europa dei popoli, delle regioni dei popoli, kif jajdu l'allega l'ombarda, l'umahbib ta' nawkoll, e jina n'envizitja l'Europa mill'Irlanda sa' Vladivostok, sa'l Pacifiku, full of regions. The smaller region, the better. Pero protetti kolla mill'imperium. Pero mbatt il-region jamelli rite, witt-region l'ho, jekkirit di, jamella, jekkirit di, mux kull'had blistex xalpa tal-Europa, one size fits all, mela, il-problema tal, bix nsemmi, tal-Ukrajina. Għaljix, l'Ukrajina għanna dil-problema, il-li xaħattirit jaqla gwerra, bix narġaw imbiħaw l'armi, kontra russi kuġenitan, għanis, tremendi, tel-ġenti, kollux, xientisti, best chess players, bix najdu xaħġa. Għaljix, għaljix, it's an artificial country l'Ukrajina. L'Ukrajina mux t'nejnem, maqsu ma min t'nejn, il-west u lis, l'Ukrajina għanda t'nax il-region, kolla distinti, mela, kik u għanna mperjum Ewropa, dil-problema, ma t'nejn, għaljix, għax il-Krimea jiexu ta-Krimeans, il-Tartari, l'Ukrajni, jħu, 12 regions, mela, dil-problema tal-Ukrajina, ma t'nejn, għaljix, il-problema tal-Jugoslavia, ma kiniħx t'nejn, għaljix, għax il-Kroati kienu jikun u hem, il-Serbi jemmek, Bosnia-Herzegovina kienu u hem, tatta, mela, u, tefem u serbi, mela, Ewropa tal-reġuni, u għu, 300 regions, sal-Lituania, bis, sal-Lituania, meneġin, għaljix, 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 300 regions, jiena, inkuntat, maħfna min-nom dal-reġuni, għaljix, 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 għal l'Assemble of Stock, la Collector's Item, e l'Imperium Europa, l'Isavailable, fru. Da' Regioni, Giuse, da' Regioni, neixu ta' kodgini, però, bil-distinctiveness, bil-tradizjonijiet, bil-kostumi, dialetti, bil-dialetti, kolla ta' Regioni, mux ti-deciedilek l'Europa, l'Europa è ma' 100,000 rules, hatt ma' jaffum dal rules, l'Azumas Test, tal-EU Commission. Norm, min ħawuf egnarawnek, għammorru għal-pawza għasira ta' ftit momenti tal-reklami, nfakruqum li'l-program tal-lum, jieġi xander-prepetizjoni, għada, il-ħatt, l'Habta, tal-lerba ta' un-offissinaru, mba tijieġi xander-prepetizjoni, ukol, na' l-lerba liġi, l-Habta, tal-lerba ta' un-offissinaru. Ibqaw ma'na, pawza għasira, niġi l-ura għattin i paħti tada'n il-program flimkin.